Federica Pacella racconta a pomeriggio 5 la verità su Yuri Rambaldi. Chi è la vera fidanzata dell'eliminato dell'isola dei famosi? Io e Yuri effettivamente siamo stati insieme dal 2016 al 2017 per un breve periodo di tira e molla Poi tutto il 2017 non ci siamo più visti anche se lui ha ritentato di riconquistarmi Mi ha portato delle rose chiedendomi a novembre del 2017 chiedendomi di tornare con lui, ma anche in quel momento era fidanzato con un'altra racconta Federica a pomeriggio 5 poi me lo ritrovo in un programma che abbiamo fatto insieme Verso settembre-ottobre ci siamo riavvicinati e gli ho voluto dare un'altra occasione e poi mentre era a Sarano Isolani ho scoperto che mi aveva tradita con un'altra ragazza Quando è uscito da Sarano Isolani l'ho lasciato e lui me l'ha lanciato dicendomi perdonami e io ho detto no, ha concluso la Pacella che sperava che Yuri continuasse la sua avventura in Honduras, aggiornamento di Stella di Benedetto Federica Pacella e Michela, che è la fidanzata di Yuri Rambaldi Federica Pacella è la vera fidanzata di Yuri Rambaldi o è una ex? Il nome dell'ultimo eliminato dell'Isola dei famosi 2019 è al centro del gossip Dopo aver flirtato in Honduras con Sara Altobello, Yuri ha rivelato di avere una fidanzata, Michele, presente nello studio dell'Isola durante la diretta Secondo quanto raccontato da Roger Gart nello studio di Pomeriggio 5, però, Michela non sarebbe la vera fidanzata di Yuri o, quantomeno, non sarebbe l'unica Secondo l'opinionista di Barbara D'Urso, infatti, la vera fidanzata di Yuri si chiamerebbe Federica Pacella Un vero scoop quello lanciato da Roger Gart che ha spinto la redazione di Pomeriggio 5 a cercare la ragazza Federica, così, ha accettato l'invito di Barbara D'Urso e nella puntata di San Valentino di Pomeriggio 5, racconterà tutta la verità sul suo rapporto con Yuri .Federica Pacella, la presunta, vera fidanzata di Yuri Rambaldi a Pomeriggio 5.Tra Michela e Federica Pacella, dunque, che è la vera fidanzata di Yuri Rambaldi Nello studio dell'Isola dei famosi 2019, interpellata da Alessia Marcuzzi sul presunto flirt tra Yuri e Sara Altobello, Michela ha dichiarato, stiamo insieme da circa un mese, ci siamo conosciuti a dicembre Secondo Roger Gart, però, nella vita di Yuri ci sarebbe un'altra ragazza, sono stato contattato dalla presunta ex fidanzata di Yuri, la quale mi ha raccontato di averlo sentito fino a inizio gennaio, ha detto l'opinionista di Barbara D'Urso Secondo Roger Gart, dunque, Michela, la ragazza presente nello studio dell'Isola, sarebbe una delettante Sarà verità. A Pomeriggio 5, oggi, Federica rivelerà tutti i dettagli della vita sentimentale di Yuri Rambaldi Grazie per il like